Una via stretta e case molto vicine tra loro. Si presenta così via di Francesco a Pescaracolli. Striscioni esposti che urlano alla salute come diritto inalienabile dell'uomo. E un foglio con la diffida alla nota società di telecomunicazioni Wind. Il motivo? L'intenzione di quest'ultima di piazzare un'antenna alta circa 5 metri sul tetto di un edificio della via. Una battaglia che i residenti combattono da mesi, in attesa della decisione del Tar. Questa mattina si è svolto, forse per la prima volta, un tavolo tecnico che riunisce società che vuole costruire la Wind, comitati cittadini che non vogliono la costruzione dell'antenna e amministrazione comunale che diventa arbitro e mediatore della questione, chiamando all'appello anche l'azienda regionale per la tutela dell'ambiente, con il compito di creare una regolamentazione specifica per il caso. Si parla di inquinamento elettromagnetico, si parla di antenne, si parla di una compagnia telefonica nota come la Wind. Spiega l'assessore Sandra Santavenere, si tratta di tutelare diritti di pari valore. Nel caso della Wind è l'obbligo di garantire la copertura del segnale sul territorio. Nel caso dei residenti, invece, raccogliere la richiesta di tutelare il diritto inviolabile della salute, cercando, come da loro richiesto, nuovi siti alternativi per l'antenna o l'adozione di tecnologie alternative a minore impatto. Di questo si è parlato al Comune di Pescara in una seduta, che riguarda una questione che si profila lunga e complicata.